Epifania ortodossa, magnate russo ospita la festa degli ucraini, l'oligarca Oleg Tinkov, oppositore di Putin, ospiterà i profughi nel suo stabilimento balneare a Forte dei Mardi. Appennino senza neve, aiuti agli operatori turistici, il presidente della regione Gianni ha partecipato alla riunione convocata dal ministro al turismo Daniela Santanchè. Antinfiammatori introvabili, situazione critica, anche nella nostra provincia c'è difficoltà a reperire farmaci utili per le malattie di stagione. Tre opzioni sul tavolo, lucchese verso l'accessione, il presidente Vichi ospite giovedì sera Curva Ovest e gli altri dirigenti decideranno entro pochi giorni diversi scenari possibili ed un mercato di gennaio ancora da impostare. Pallavolo colpo della Nottolini presa la Mastronardi, la 24enne schiacciatrice abruzzese promette di essere un'arma in più per coach Capponi, grande attesa per il big match di sabato sera contro la capolista Parella Torino. Trovate altigi noi della provincia di Lucca. In apertura parliamo dell'Epifania Ortodossa, una festa celebrata anche dai cittadini ucraini. Sappiamo che ci sono molti profughi anche nel nostro paese e molti di loro celebreranno questa festa ospitati da un magnate russo nel suo stabilimento balneare in Versilia. Ci racconta tutto Virginia Torriani. Si terrà alla Dacia Beach di Forte dei Marmi l'Epifania Ortodossa dei profughi ucraini arrivati nei mesi scorsi in provincia di Lucca. Le famiglie scappate dal conflitto saranno ospiti del magnate russo Oleg Tinkov, che sin dall'inizio aveva condannato l'offensiva militare, per celebrare il 18 e 19 gennaio la festa che conclude il loro periodo natalizio. Secondo il rito, i fedeli devono immergersi in mari, fiumi, laghi per ricordare il battesimo di Cristo. Quest'anno, per i tanti costretti a lasciare la propria casa, anche le onde del Tirreno consentiranno di proseguire questa antica tradizione che, secondo la Chiesa d'Oriente, purifica dai peccati e previene le malattie. Questo anno andiamo a Forte dei Marmi. Una molto famosa persona, Tinkov, lui ha detto come posso venire sulla spiaggia e fare questa festa. Facciamo tre volte il bagno e poi facciamo uscire, facciamo asciugare e va bene. E nessuno fa malattia. Un sacerdote ortodosso arriverà da Genova sul litorale versiliese per la cerimonia, a cui prenderà parte anche Lilia, ex docente di matematica e fisica a Kiev. Arrivata in Italia per fuggire alla guerra, adesso vive in una casa in provincia di Lucca, con la mamma, i figli, la sorella, i nipoti e altre nove famiglie di connazionali. Sono conosciuti tutti di qua perché prima sono scappati via da sole, non conosco nessuno. Adesso abbiamo una grande famiglia con 30 persone e abbiamo nove amici. Un augurio speciale per questa festa. Christos Rosteizia, slavimo Jogo. Cristo è nato, la odiamo. Vediamo la situazione Covid in Toscana con i nuovi contagiati che sono 647, un tasso di positività che si attesta al 12,3%. Diminuiscono i ricoverati, scendono sotto quota a 400, adesso sono 390, dei quali 22 in terapia intensiva. Sei i decessi in Toscana, i nuovi contagiati in provincia di Lucca sono 77. Non c'è neve sull'Appennino e gli operatori turistici temono il tracollo. Oggi c'è stato un incontro a Roma con la Ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Si è parlato di possibilità di cassa integrazione per i lavoratori del settore e agevolazioni sui mutui. C'era anche il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha stimato per la nostra Regione i danni al turismo intorno ai 50 milioni di euro. Proprio Giani ha avanzato una proposta che è stata accolta affinché i comuni delle zone interessate possano trattenere interamente i proventi dell'Imu. Sentiamo il Presidente. E' stato poi raccolto anche una proposta che io mi sono sentito di fare. Molti dei comuni interessati si trovano a vivere quella situazione che il decreto Monti una decina di anni fa aveva previsto in caso di grande consistenza di seconde case come percezione del, oggi è l'Imu l'imposta appunto sugli immobili. Per coloro che i comuni che hanno molte seconde case il 50% delle imposte riscosse sarebbero state utilizzate nei bilanci dei comuni interessati, il 50% sarebbe stata percepita a Roma per la redistribuzione in situazioni di disagio. Ma oggi è incongruente questa norma, le condizioni di disagio li vivono proprio questi comuni. Allora la proposta a costo zero per il bilancio dello Stato è mantenere queste risorse nei comuni che sono direttamente toccati. Per fare un esempio concreto il comune di Abitone si trova ad avere oggi una percezione di un milione e nove di questa imposta ma circa un milione la deve restituire a Roma. La proposta è che non la restituisca e che la gestisca per tutte le attività. Voi capite che in un comune come Abitone e Cutigliano avere a disposizione diretta. Un milione nell'arco dell'anno è comunque qualcosa che può servire a alleggerire le situazioni di disagio. La cronaca. I carabinieri di Barga e Castelnuovo hanno denunciato un 50enne versiliese ritenuto responsabile del tentato incendio di un'auto a Fornaci nell'autunno dello scorso anno. Le fiamme appiccate con della diavolina agli pneumatici dell'auto di un 42enne erano state spente da alcuni passanti prima che potessero avvolgere l'intera vettura. I sospetti si erano immediatamente concentrati nei confronti del 50enne versiliese che da qualche tempo abita in Mediavalle che al termine delle indagini è stato denunciato dai carabinieri per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Dagli accertamenti è emerso che la vittima e il presunto incendiario in passato si conoscevano tanto che il movente sembra maturato a seguito di precedenti dissidi tra i due. Cambiamo argomento parliamo di alcuni farmaci come gli antinfiammatori che sono sempre più difficili da trovare anche nella nostra provincia. Il punto della situazione lo fa Luigi Casentini. Sono quasi 3000 i farmaci di difficile reperimento nelle farmacie. Una situazione estremamente critica dato che molti dei farmaci sia di marca che generici sono quelli necessari per le malattie di stagione in special modo antinfiammatori o fludificanti del catarro. A confermare questa crisi è l'ordine dei farmacisti che spiega come sia vasto il ventaglio dei medicinali introvabili e non legate ad un principio attivo specifico. Sicuramente sì, la mancanza di farmaci è importante, mancano quantità importanti, mancano tipologie di farmaci più svariate e la situazione è abbastanza critica. Non è drammatica per l'amor di Dio però è abbastanza critica. Il problema è che mancano sia gli originali, i brand che i generici, mancano varie formulazioni, compresse, buste, compresse effervescenti, buste effervescenti. La situazione è abbastanza incredibile. Mancano antibiotici, mancano infiammatori, mancano sciroppi per bambini, mancano sciroppi di antibiotico per bambini, mancano gastroprotettori. La varietà di prodotti è notevole. Finora abbiamo risolto a bocconi, magari te ne arrivano due in una mattina, tre in una mattina, una tipologia arriva a qualche scatola, però la situazione è sicuramente da monitorare. Una situazione che i farmacisti della provincia stanno tamponando, riuscendo comunque a garantire le forniture, a volte magari con qualche ritardo, ma che rischia di diventare molto critica anche perché le case produttrici non stanno dando risposte soddisfacenti riguardo le tempistiche per un rientro della produzione a regime. Allora, non sono convincenti per nulla. Le ditte dicono sempre le stesse cose, manca il vetro, manca la plastica, manca il packaging, manca la cartone, manca l'alluminio per fare il blister, però non c'è una risposta certa. Manca per questo motivo e riprenderà la produzione tra un mese, tra 15 giorni, tra due mesi. Per i prossimi sei mesi non ve ne preoccupate non ce ne sarà più. Cioè, noi vorremmo delle risposte precise perché al cliente finale gli va detto poi qualcosa, non è che oggi non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Cioè le risposte devono essere precise. Manca questo prodotto, ci sarà fra 15 giorni. Però a capire come mai manca il brand, manca il generico, mancano le varie riforme farmaceutiche? Sinceramente non è chiaro. Il nuovo ponte sul Serchio a metà marzo ci sarà la posa della prima pietra. Prende forma il calendario per la realizzazione del nuovo ponte sul Serchio di Lucca. A metà febbraio la firma ufficiale del contratto tra la provincia e Fincantieri che si è aggiudicata l'appalto da 27 milioni di euro. Poi, a metà marzo, la posa della prima pietra dell'infrastruttura che collegherà la SP1 Francigena, via per Camaiore, con la statale 12 del Brennero. Sono queste le tempistiche emerse nel corso dell'incontro svoltosi a Palazzo Ducale tra il presidente della provincia, Luca Menesini, e i dirigenti tecnici di Fincantieri che ha proposto una serie di migliorie tecniche per l'infrastruttura, l'allestimento del cantiere e un ribasso del 3,7% rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara, proponendo una considerevole riduzione dei tempi di durata dei lavori che si assestano sui 480 giorni complessivi di cantiere. L'incontro con Fincantieri è stato molto positivo, l'impresa è conosciuta, conosciuta anche per gli interventi significativi che ha fatto in questi ultimi anni il ponte di Genova ma anche il ponte di Albiano. Ci sono le condizioni, e queste abbiamo verificato affinché i lavori possano iniziare già nel mese di marzo e allo stesso tempo con l'offerta che è stata fatta, che prevede una grande riduzione delle tempistiche, appunto da una parte rispetto al cronoprogramma, ma soprattutto avere l'opera realizzata entro il 2024. Cambiamo completamente argomento, la canzonetta della Burlamacco 81 torna in scena al Teatro Ienco. Il divertimento è più bello se strizza l'occhio anche alla solidarietà, e la canzonetta della FIA a Lucca Ponò è in scena al Teatro Ienco di Viereggio, giovedì 2 e venerdì 3 febbraio, è il frutto dell'impegno della storica Burlamacco 81 e della collaborazione con Lions Club Viereggio-Versilia Host. Come sempre lo spettacolo avrà una finalità benefica, il ricavato della vendita dei biglietti infatti sarà devoluto alle iniziative curate dai Lions. Certamente è una cosa che ci fa molto piacere, siamo in linea con il nostro motto We Serve, cioè servire per la comunità versiliese. Noi facciamo cose importanti per la comunità, una di queste è appunto raccogliere i fondi che poi ci servono per finanziarle. Con la Burlamacco 81, una collaborazione che risale a 5 anni fa più o meno, continuiamo a organizzare questa bellissima manifestazione che è la canzonetta. La canzonetta che quest'anno tra l'altro avrà un tema anche che si rifà a un carnevale esportato in Lucchesia, quindi un motivo ancora di maggior divertimento e di richiamo per le persone che vogliono divertirsi e nello stesso tempo dare una mano appunto a chi diciamo ha meno di noi e quindi chi può essere aiutato attraverso, come dicevo, la raccolta fondi che faremo. Dunque anche quest'anno la solidarietà incontrerà il divertimento grazie a Laura Santini, Claudio Morganti, Antonio Meccheri, Vincenzo Ilaria Cagnolo, Federica Folini, Silvia Pardini, Michael Viti, Vittorio Giusti e il giovanissimo Marco Giusti che porteranno sul palco dell'Oienco un paio d'ore di sano divertimento. I biglietti sono in prevendita presso il caffè Margherita di Viareggio tutti i giorni dalle 18 alle 19 e 30. Tortorella mia! Sì, piccioncino mio, sì! Ma che hanno aperto la caccia? Oh! A Banni di Lucca ha presentato il cartellone di Teatro Scuola. Si è svolta presso la sala consigliare del municipio di Banni di Lucca la conferenza stampa di presentazione dell'edizione numero 30 dell'arsegna teatrale Teatro Scuola. Dopo gli anni complicati legati al Covid si tratta di una ripartenza a tutti gli effetti o meglio di un ritorno alla normalità per quanto riguarda lo svolgimento del programma della manifestazione. Anche se in questi anni legati all'emergenza l'evento si è mantenuto vivo grazie soprattutto alla partecipazione delle scuole del territorio. La rassegna ora torna comunque alla ripartenza piena. Torna il Teatro Scuola con la tradizionale apertura del teatro a tutti, sia in fascia mattutina che è in fascia pomeridiana, un'apertura che non ha più restrizioni di alcun tipo, è aperto a tutti, a genitori, a bambini, a tutti e questo è un grande successo e noi siamo veramente molto soddisfatti di arrivare a questa trentesima edizione con un nuovo spirito. Ad organizzare l'evento per il terzo anno consecutivo insieme al Comune di Banni di Lucca e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e l'Associazione Il Circo e la Luna. Ma quali saranno gli appuntamenti più importanti e le novità dell'edizione 2023? Intanto il fatto che c'è sia di nuovo la formazione per docenti come gli anni scorsi che può essere fatta sia online che in presenza, ci sono degli spettacoli che possono venire nelle vostre scuole, cioè veniamo direttamente a fare il teatro da voi oltre alla consuetta formazione che facciamo per i vostri ragazzi. E poi un'altra novità importante è il passaporto teatrale che consente ai ragazzi di imparare a fare i critici teatrali, fare recensioni e praticare il nostro bel teatro. È tutto, adesso un breve break pubblicitario e subito dopo lo sport.